Per quanto mi riguarda, è sacra da 34 anni, prima ancora del Milan, quindi mancherebbe Scusi, ma non devo confermare le parole del Presidente, le parole del Presidente non si commentano, occhio che arrivano i nostri amici, siamo noi Però sono state 12 ore dure, un po' per tutti, francamente